Leva CHS, impariamo giocando. Learning by doing. CHS offre un'incredibile opportunità di crescita personale, di gioco, socializzazione e preparazione ad un futuro professionale nel mondo del marketing e della comunicazione. Craft Hacker Space mette a disposizione le proprie strutture per accogliere ragazzi seriamente motivati alla recitazione, alla scrittura ed alla produzione di video per il cinema e per internet. Un'incredibile opportunità per imparare il top delle tecnologie grafica, comunicazione, internet. Un'esperienza di apprendimento riservata solo ai più motivati, quelli che saranno gli influencer di domani. Partecipa alla coproduzione di fiction per cinema, internet e piattaforme social, di documentari per internet e la tv. Dai una chance al creativo che c'è in te. Una piattaforma virtuale, una comunità inclusiva e le nostre tecnologie saranno il boost per la tua creatività. Non perdere tempo, presente alla tua candidatura accogliamo persone capaci.